Come risolvere così i problemi riguardo al controllo su The First Sentence? Questo qua, ed eccolo qua come puoi vedere se vai direttamente sulla modalità Big Picture quindi in questo caso torno un attimo indietro per farti vedere come entrare nella modalità Big Picture quindi vado nella libreria, questo è il gioco andiamo un attimo prima sull'impostazione, qui proprietà vai su controllo ed eccolo qua il mio controller è abilitato quindi controller Xbox è abilitato modifica specifica per il gioco quindi abilità Steam Input, abiliti così Steam Input se non dovesse funzionare il controller andiamo direttamente su gestione dispositivi vai direttamente su periferiche come puoi vedere questa è la mia periferica Xbox 360 che il controller me lo segna così clicco su per faccia aggiorna driver, cerca i driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili nel computer installo così questo e faccio avanti e installo così il driver per il mio controller se non dovesse funzionare possiamo sempre andare su configurazione quindi configura dispositivi di gioco USB controller USB controller quindi faccio su avanzate inserisco così il mio controller, faccio ok vado su proprietà ed eccolo qua il mio controller per fare un test se funziona come puoi vedere qui si muove tutto e faccio ok qui aggiornato così il nostro controller quindi faccio chiudi dobbiamo riavviare il computer quindi lo faccio più tardi chiudo qua una volta fatto entriamo così nella modalità Big Picture vai su visualizza e qui c'è scritto modalità Big Picture una volta fatto eseguo tutto con il controller puoi anche usare mouse e tastiera quindi vado sul gioco vado sul controller vado direttamente sul layout ufficiale questo qua vado sul layout della comunità e ci sono dei layout possiamo scaricarli e applicarli sul nostro controller faccio cerca questo modello funziona per la maggior parte dei giochi che supportano i controller in modalità nativa clicco questo e lo applico sul gioco ho applicato così il layout una volta fatto vado sulla rotella qua vado su proprietà controller come avete visto all'inizio abilità Steam Input e me lo segno come controller Xbox e a me il gioco quindi a me il controller sul gioco funziona quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao ciao